Salve ragazzi, sono ancora io qui Gordo Bon con questo video di il piccione Stiamo seguendo il piccione che picciona in tutte le parti Il piccione Vediamo il suo comportamento a prendere i pezzi di pane Roger, 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 Roger vai via, vai via, vai via, sto facendo un video dai Il piccione Molla i suoi pezzi di pane perché non crede che gli piaccia Il piccione Passa davanti a una persona Il piccione Osserviamo il suo modo di camminare Vola, 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 vola Vola, andiamo a prendere il piccione Eccolo lì, il piccione Il piccione Non devi mangiare specificamente Il piccione, il piccione No, 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 metti subito via questa cosa fa Come vlog il piccione Il piccione Il piccione E qui finisce E qui finisce il mio video di il piccione Stiamo seguendo Ci sono i due piccioni adesso No, uno di nuovo E qui finisce da Gordon Bonn e tutto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti